Il tempo duro Jacopo! Dai dai dai! Il discorso! L'odore si sente! Devo tagliare! Devo tagliare! Devo fare il sfumbo! Non si è preso il numero! Vai Niccolò! Su! Lascia un vincere! Vai Giulia tu! Lascia un vincere! Fussi il primo dici! Vai Giulia! Sono 150! Sino insomma ne passa parecchio! No! No! Ora rispettano! No! 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 Dai Fabio! Dai Fabio! Dai! No! Dai dai! Siamo 10.000 metri per questa ventesima edizione del trofeo Industria Artigianato e Commercio del Comune di Rignano. ora ci sono tre curve in pratica che dividono la testa della corsa da qui all'arrivo lanciato lo sprint e con il numero 78, secondo posto per Nencini, volata anche per gli seguitori 178 178